musica 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 ah hm ma chi è quello? ma sta sbarcando qualcuno potrà mai essere ah l'ha capito? di sicuro l'ha capito che dovrà usare eh si in effetti devo fermare però signore salve come va signora si ferma si? mi dica stavo dicendo salve io sono venuto a trasferirmi sa come si chiama sto posto giusto oppure no? si regno spartantico si si ok allora vi mostro questa qua è la nostra immensa ferrovia qua ci sta un poco di agricoltura poi qua ci sta una cassa di sabbia venga un attimo ok questo è il primo piano qua ci sta sottoterra anzi direi sotto sabbia ok eh saliamo sopra qua invece sta la terrazza sopra c'è anche con due campi c'è il campo da fuoco per cucinare e qua c'è il campo da tennis lì un palazzo dove la ospiterò eh si è lì che vabbè il mondo che sticata si sono accese le lanterne si 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 accendono sempre oh lì c'è la mappa geografica si si un attimo si metta un poco più lontano si metta tipo lì un attimo si comunque questa qua è la mappa geografica mmm carino come posto questa qua è la bandiera non si deve da fare la bandiera è il primo piano in teoria è il primo piano in teoria si è il primo piano comunque oh qua c'è la cucina il banco per mangiare ok qui ancora qua il tuo piano quindi questo è il mio questo è il mio che bello mmm che bel freschetto mentre se vuoi ancora andare a vedere qua ci stanno due piani sospeso per altri due ospiti futuri di sopra invece qua ci sta il mio piano venga sopra come si accende è così è buio che figo lei non dorme? ehm c'è io mi codo la vita quindi non dormo deve ancora prendere il letto sicuro sicuro si lo comprerò dai che ora devo tengo tanti soldi ah se anche lei ti ha trasferito da poco qua oppure no ci sono tantissimo tempo però questo palazzo non l'ho costruito io una vecchia casa si però è una vecchia casa io in effetti la vuole andare a vedere? ci vive ancora pure in abitata no ci vive ancora ogni tanto ci vivo adesso io ti faccio capire perché ho ok ok dov'è che si trova? di qua si sale di sale per di qui dov'è che si trova? vieni vieni uh che bello qui c'è anche una batteria comunque si sale e questa è la mia vecchia casa uh voglio vedere vabbò qua facevo delle varie c'è il mestiere c'è il lavoro del mestiere eh questo è Vigo Coppola mmm bel posto poi qua ci sta una finestrella per vedere qua invece io sono amante del vino bene quindi mi ho messo il vino a fermentare quindi io ci farebbe una bella bevuta in futuro qui invece facevo dei lavori qui invece ci lavorava no ci lavoro e ci lavoravo si ma era un fab ah ma è un fabbro lei quindi si e qui invece faccio delle spade di queste cose è interessato posso fare qualcosa però in cambio lei mi deve dare i soldi capito? eeeh per Italia ho spesi tutti per la chiave ma non ti preoccupare tanto qua ci sono tanti lavori che puoi fare anzi la voglio assumere quel lavoro oh l'accetta? tu bene eeeh si mi potrebbe servire però per oggi voglio andare un poco a dormire domani poi andiamo a dormire domani ne parleremo dai ah però questa è una cosa servirebbe proprio un letto ciao signora ciao signora mi sei vieni col letto sono il postino a eeeh si ne avevo le consegno il letto le consegno la posta ecco a lei ok se vuole leggere il giornale è sempre disponibile va bene eeeh buonanotte signora ciao finalmente dormirò andiamo a dormire un poco spegniamo anzi le luci le tengo no dai le spegniamo dai si deve dormire quello ci spente buongiorno ma cos'è sto rumore ma ma chi è ma chi è che tiene così tanto le luci accese ma ma signore salve signore buongiorno ma come russa eeeh ma oggi mi ho preso sonno però oggi lavorerà tanto lei venga oh no prima però volevo vedere tutto il villaggio se se si può questo comunque il palazzo si trova si è situato in vico rottano ah a vico rottano c'è anche questo posto eeeh c'è anche il campo da tennis qui ci sta eeeh e anche il campo da tennis e la fattoria nel vico rottano no allora il vico rottano è ehm modo di dire di identificare le case hai capito e quello quindi ogni cosa e ogni cosa ha il suo nome dai sarebbe il nome del palazzo allora di qua ci sta un l'informatica tipo si fa l'informatica lei è abile lei è abile a fare l'informatica no non lo so mmm si di solito lavoravo ma andiamo sopra sopra ci sta una bella scuola dove lei può insegnare oppure può essere istruito però io dico a me se insegna che deve avere soldi si un'altra cartina con altre bandiere della stessa cioè il stesso posto ma il posto da cui sono sbarcato è fuori nazione si ah però è collegato il binario alla nazione e all'isola ok si allora questa è una tradizione non non cioè non ce l'hanno detto il perché non fa parte del nostro regno però si dice che lì in quella casa si è avvenuta una tragedia che una persona del regno spartantico venne uccisa da una persona anonima che non si sa dove è andata poi è scappata ma adesso non usiamo quel porto là per far venire i giovani e farli lavorare qui quindi cioè è di mia proprietà ma comunque non fa parte del regno lo stesso ma io voglio andare a vedere quella barca che mi è sempre interessata mi sembrava molto fatta bene chi è che abita qua? io ah in questa casa ho una persona che è molto cara a me io adesso dove però comunque il suo cioè il suo posto per abitare cioè dove abiterà è il primo piano di quella di quel palazzo possiamo prendere i carrelli così ci vediamo tutti un po' più in fretta va bene allora andiamo io io l'ho dov'è che stiamo andando con questi binari? sulle montagne oh ci abbiamo messo tanti tanti e tanti soldi pure per creare queste ferrovie cosa porta questo posto? è un po' un giro sono un po' bloccato è un po' un giro del posto riesco a salire ah non c'è nulla mi fa salire aiuto in che senso? si è bloccato il salve signore si è bloccato il treno salga vuole salire per di qua? no ok si è sbloccato si è sbloccato ok io l'aspetto sopra ci sono oddio togliami dietro dai scenda scenda scendo scenda no voglio vedere cosa c'è per di qua qua sopra ah qui ci sta il sacro albero qua c'è un cartello che senso albero sacro come mai è sacro? guardi un attimo le nuvele dove sono oddio è vero e quindi l'albero sacro perché e l'albero e l'albero e l'albero sia più in alto ma non del regno spartantico proprio di tutto il mondo wow che figo beh in effetti sai io studiavo scienze non mi sembra molto normale che un albero si trovi a questa densità di altezza dovrebbe tecnicamente morire invece no e per questo vi ho chiamato albero sacro pure io la penso come a lei o comunque io torno un po' in città c'è una chiesa c'è una chiesa c'è una chiesa dove dove? andiamoci lì yolo è tutto fatto così bene wow eh dobbiamo premere qualche leva per andarci mentre basta ci fermiamo così oh vai scendi dal carrello ok 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 ma adesso possiamo andare a vedere e lì c'è anche una casa però l'importante è la chiesa però non ci sono cosa che aveva controllato? niente niente della nostra storia comunque è una sparta antica si è una non si pronuncia è stato scritto dagli antichi ma ah ma questa non è la lingua ufficiale è la lingua vecchia la lingua vecchia si è ah e la lingua nuova invece ma si adotta aspetta ma si adotta l'italiano perché ora ti dico il perché visto che noi commerciamo con l'italia l'italiano noi commerciamo con l'italia per questo avevo studiato che si parlava l'italiano l'inglese e anche il cinese mandarin vai ma buvo varie lingue però che non me le ricordo aiuto sta sempre questo questo piccolo problema dei binari che non si è mai capito il perché fanno così rimaniamo lì là non fa niente in teoria sono tre lingue giusta in teoria si però ma adesso un poco cioè ah boh si usa più l'italiano perché per questione di commercio ma ti ho detto comunque lei a proposito sono nel mediterraneo venga qui può lavorare in questo posto se vuole guadagnarci qualcosa venga da me dove sei? qui qua ah ok ok devo lavorare nella scuola? ehm se vuole vivere si no nella scuola non proprio no nella scuola no nella scuola qui in ufficio va bene signora io lo allora ricordi che lei deve creare un'applicazione e dopo mi deve spiegare come è fatta e aiuterò dei soldi ok buona giornata è un'applicazione di commercio sì di commercio si uc l' ز AA Grazie per la visione!